benvenuti alla prima puntata del marmocchi show questa puntata se questa puntata parleremo di una cosa quanti di voi si sono sentiti dire ma sei proprio matto ebbene sì noi siamo tutti matti vi racconto questa storia allora bologna cena mi invitano a questa cena dove ci sono io ero un accompagnatore dove c'erano professoresse professori e professor con la e rovesciata ora io non voglio farmi chiudere il programma subito però quella sera ho scoperto cosa significa la e rovesciata ok vabbè volevo dire una cosa ma non la dico fatto sta che iniziamo con le presentazioni ok allora parlava iniziato a parlare quella iniziato a dire sì perché io insegno da dieci anni insegno storia però tralascio alcune alcuni fatti storici per non urtare la sensibilità del bambino ok poi dopo parla a quell'altro boh io ho due lauree una in filosofia una in matematica salta su quell'altro fa io la prossima settimana vorrei iniziare a parlare dell'angusciante tema lgbt plus ok allor che con tutto questo pozzo di sapienza che c'era in questa tavolata arriva il mio turno e tu matteo che lavoro fai io faccio il pescatore ma in che senso sì io vado a pescare pesco le carpe ma poi le mangi vero e allora si è aperto un mondo per loro gli ho fatto scoprire una cosa nuova non pensavo perché con tutta la conoscenza che avevano quella sera insomma io pensavo di non fargli scoprire un mondo nuovo ebbene gli ho detto no guardate che io pesco le carpe poi le rilascio nel suo ambiente mi accampo molto spesso con la tenda ci sono questi segnalatori acutici perché poi c'è stata la domanda ah ma quindi peschi sempre come fai di notte guarda gli ho spiegato la situazione dell'indicatore acustico che suona eccetera eccetera allorché ma non hai paura di notte io ho detto no assolutamente perché tanto gli stessi rumori che ci sono di notte ci sono anche di giorno solo che ci facciamo più caso certo le prime volte un pochettino di titubanza ci può stare insomma ci può anche stare queste erano le espressioni loro e poi si giravano a chiacchierare con quell'altra fatto sta mi sono assorbito una sera di come questi ragazzini delle medie hanno delle problematiche molti hanno delle problematiche spesso derivati da questa società che gli mettiamo troppa pressione già quando sono piccoli per carità vivono in un mondo diverso da quello che quelli della mia generazione vivevano nessuno lo mette in dubbio spesso queste colpe vengono anche dai genitori possono venire da alcuni professori però fatto sta che è venuto fuori da questo da questa serata che io ero un estraneo ma non un estraneo perché non praticavo il loro lavoro perché per loro era inconcepibile allorché si è avvicinata comunque questa ragazza più curiosa e dopo tutti sentivo che ascoltavano perché guai mai interrompere i loro discorsi così importanti che sembra che dovessero salvare il mondo però devono salvare sempre secondo me solo loro stessi da questa vita ma vabbè e mi ha iniziato a dire ah ma che lavoro strano che fai io non credevo ma al di là di quello tu vai a pescare detto sì 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 io vado a pescare ma comunque ci sono tantissime persone che praticano il carp fishing è proprio questa tecnica e ma come mai perché allora prima che inizia ditato da ma sei matto l'ho spiegato il perché pausa pubblicità le cose belle sono spesso le più difficili per farci ci vuole coraggio sei sicuro di averci quante volte hai rinunciato quante volte hai avuto dei dubbi il coraggio è dentro di noi ma come si fa a tirarlo fuori raggiungi i tuoi obiettivi proteggiti senza limiti credi in te stesso fine pubblicità e insomma gli ho spiegato il perché vado a pescare allora io mi sono adentrato in un tra un bicchiere di rosso e un prosecco da quello che è il mio modo di vedere la pesca sportiva auletica cioè il carp fishing che amo allora io gli ho spiegato che non è il catturare il pesce il catturare il pesce è la conclusione di un percorso che inizia ben giorni prima ma forse anche anni prima perché certo che fa impressione michelangelo qua con le dita così però ecco è il mio sfondo perché perché io penso che i carpisti siano le persone più vicine alla libertà voi immaginate tutti noi abbiamo un lavoro più brutto meno brutto comunque impegnativo ci porta via delle ore per vivere sopravvivere e poi la nostra passione ci permette di stare ore giorni anche settimane in un luogo dove noi vogliamo praticando una passione che noi desideriamo liberi in un ambiente che è la natura quindi noi per qualche ora un giorno siamo quelle persone più vicine alla libertà e ce ne accorgiamo nel frattempo che noi stiamo lì seduti sulla sedia guardiamo un tramonto sempre con questo pensiero che da un momento all'altro potrebbe partire la canna il pesce dei nostri sogni un'alba un caffè sorseggiato in riva o lago col rumore delle onde magari in compagnia del nostro miglior amico o della nostra compagna ma voi pensate quanto siamo fortunati noi carpisti nel goderci la natura perché noi ce la godiamo tutto il momento che vogliamo cavolo in mezzo alla natura a un certo punto nei carpisti diventiamo degli animali ma in senso buono perché quasi ci vengono a far visita gli animali gli uccellini gli scoiattoli si avvicinano capiscono che di noi si possono fidare spesso abbiamo anche delle visite un po meno gradite qualche cinghiale qualche cervo però si avvicinano quindi pensate noi come siamo fortunati che ci medesimiamo nella natura e poi da essa impariamo anche a sopravvivere perché ci sono delle situazioni dove noi ci adattiamo alla natura quando piove quando fa freddo quando ritorniamo allo stato brado ok che abbiamo i lettini le tende super tecnologiche eccetera eccetera che saranno argomento che affronterò successivamente in altre puntate perché questa è una puntata leggera poi ce ne saranno di altri più pesanti quindi ragazzi se qualcuno vi dice ma voi siete matti chi ve lo fa fare a stare al freddo all'umidità per un pesce ebbene rispondetegli sì io sono matto perché mi godo il mio momento libero e sono la persona molto più vicino alla libertà di quanto tu possa essere e fategli presente che quando noi catturiamo un pesce lo adagiamo sul materassino gli diamo le giuste cure qualora ce ne fosse bisogno in determinati periodi dell'anno foto veloce video veloce pochi secondi e li rilasciamo nel loro ambiente e molto spesso fateci caso le carpe quando le rilasciamo molto spesso lo ripeto vanno via dolci il mente perché chissà se anche loro si fidano di noi io penso che noi carpisti all'ambiente diamo tanto e daremo davvero ancora tanto fatene tesoro di questa cosa perché voi carpisti siete la parte migliore migliore che io conosco finito perché questi show devono durare tra i 10 e 15 minuti altrimenti i social media manager non riescono a fare i reel e poi dopo si perde l'attenzione spero che questa prima puntata vi sia piaciuta vi abbia fatto cogliere un qualcosa e aspettatevi tante altre cose perché make it happen lasciatelo accadere ciao 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 Grazie a tutti.